Salve a tutti youtubers e ben introdati sul mio canale, io sono Sammarin e riprendiamo la nostra partita Dobbiamo far fuori il comandante, no? Nooo Ma che sbircia Ma perché quello viene qua? Va far giro del Cazzara E mo la facciamo fuori? Fanno fuori Fuori, fuori Questo speriamo che non si muove da qui, eh? Direi di farlo fuori prima che si muove Ok Dopo, ci torno dopo A prendere i documenti, quello che ci serve a noi Oh, oh Sei qui? Fuori Ok Ma sa che abbiamo risolto il problema Dove stai, oh? Rubiamo io La sacca E che cavolo dobbiamo fare adesso? A mandare un messaggio Un falso messaggio Andiamo Ok Ok, fatto Un solo ordine non era sufficiente Il protocollo ottomano richiedeva la triplice copia Prima che il treno riconoscesse l'autenticità del messaggio Dobbiamo per usare un altro Un'altra delle rocche forti Quindi Andiamo Non so se Era meglio a prendere Il car armato Vabbè dai Prendiamo questa qui Che è più vicino No, non è più vicino Aspettate un po' Andiamo della Andiamo là Nel villaggio Facciamo prima questa Era una buona No, obiettivo Elimina il comandante Ma no Dai Vediamo un attimo a vedere Do sta il comandante Oh, macchina Ce ne sono Oh Se ce calz tronzo là No, no Andate C'è che ați fermato Afa Andate Andate No Batevi il giro vostro Allora Allora Ci serve una strategia Vediamo un po' Solo due Non può essere Perché da qui Non si vede Un cazzarola Niente Dai Andiamo Potrebbe essere Quello il comandante Eh sì Eccolo là Non si vede non può essere soltanto 3 arriva un'altra volta con gli stranzi non può essere soltanto ma non può essere soltanto ma non può essere soltanto Grazie a tutti, grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Zitto, zitto, stai zitto lì. Va bene. Dobbiamo andare a avviare il messaggio là. Vai! Vai! Dai, e butta giù quel piccione, porco! Corri! Vai! E ce l'ho fatta, me sa. Nuovo obiettivo. Andiamo per usare l'ultima roccaforte ottomana. E stai zitto, stai. E stai zitto, stai. Eccolo qua. Anche qui ci sarà da far fuori il comandante, sicuro. al 100%. Buono, buono, buono. Fermare. Binocolo. Il comandante è dentro. Qui è dentro il comandante. Elimina il comandante. Va bene. Il comandante è dentro. Il comandante è dentro. Eh, che cazzarola Ropi adesso Per me sta lì dentro Bisogna vedere se è vero o no Oh Oh, parli da solo? È lì dentro, sto sicuro, guarda Lì dove c'è la luce Lì Simdicini bitiricam Porf Domuz kılıklı Lì Lì Ahmetin evlami Come Tocca susto Oh Oh divis Kavalama ilerde Etramını sár Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ma temo che non sia il messaggio che avresti voluto. E Lorenz era un ospite eccellente. Mi è quasi sembrato scortese fuggire. Ovviamente ho annotato la posizione del campo di Lorenz. E anche il treno. Ora la conosce. Per due volte hai detto al treno che tutto era tranquillo, ma... Io ho ordinato un attacco mirato. La bestia sente il tuo odore, mia cara. E sta arrivando per massacrare te e la tua piccola banda di ribelli. Prima con la tempesta di fuoco dei cannoni. Mi sono con la manzata delle truppe per trucidare ogni superstite. La leggenda di Lorenz Tarabia morirà stanotte. Stronzo. Stronzo. Il treno arriva da molto lontano. E dovrà fare rifornimento d'acqua. Sarà allora che lo colpiremo. D'accordo. Eliminerò le sentinelle. Poi piazzerò degli esplosivi sulle rotaie. Io radunerò... E la facciamo fuori. Senza più rotaie il treno sarà in trappola. Certo. Quindi quando sentirai l'esplosione dovrai attaccare con tutte le tue forze. Va bene. Ma c'è la possibilità che nessuno mi segua. Dopo aver detonato le caliche potresti ritrovarti sola. Questo lo sai. Immagino che lo scoprirò solo dopo l'esplosione. Dai, facciamolo fuori sto cavolo del treno. L'uomo pianifica, Dio ride. Scoprimmo che la piccola città dove volevamo tendere l'imposcata al treno era presidiata dal nemico. Avremmo dovuto liberarci di quelle truppe prima di poter piazzare gli esplosivi. Hai capito te? Prima dobbiamo liberarci di queste truppe, pulimo il posto e poi dobbiamo piazzare le cariche. Quindi, però, questa la facciamo nel prossimo episodio. A parte che le mie cuffie mi segnala sempre che se sta per scaricare. Ciao, ciao ragazzi. Alla prossima. Ciao.